Cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Con questo ruolino di marcia, approfittando anche della sconfitta contemporanea della Cavese in Sicilia contro il Due Torri, la Palmese di Rosario Salerno ha agganciato il primo posto in classifica a 16 punti, in coabitazione proprio con la formazione campana. I neroverdi stanno vestendo il classico ruolo della matricola terribile e domenica saranno chiamate ad un importante test di maturità, rendendo visita alla Frattese che con 15 punti è la più immediata in seguitrice del Due di testa. Leggermente staccata in classifica c'è la Vibonese. La formazione di Di Maria nel confronto casalingo contro l'Agropoli proverà a dimenticare subito il derby di alta classifica perso nell'ultimo turno proprio contro la Palmese. E' reduce da una sconfitta nel turno infrasettimanale di mercoledì anche il Rende che continua il suo andamento altalenante in un campionato che ai nastri di partenza lo vedeva tra i favoriti. Per i Biancorossi impegno interno contro la Gelbison, trasferta insidiosa per il Reggio Calabria che sarà impegnato sul difficile campo del Siracusa e gara casalinga infine per la Vigor Lamezia che altri nuovi acquisti dovrebbe ufficializzare in serata e proverà a cancellare lo zero in classifica che gli vale l'ultimo posto contro il Due Torri. Riposerà infine il Roccella con le partite che inizieranno tutte domenica alle 15.